Non poteva mancare Nane Vianello un grande della pallacanestra a questa festa di dieci anni dell'Umana Reier. Che effetto fa tornare per questa ricorrenza alla misericordia? È un'emozione che attanaglia sempre i vecchi giocatori che qui hanno scritto un po' di storia della Reier. Quindi è sempre un piacere venire qua e essere contattato e salutare vecchi amici. E anche rivedere la Reier ai vertici del basket italiano, una bella sensazione per chi ha amato questi colori? Senz'altro, fa piacere e speriamo che anche quest'anno in disputa di un campionato come quello dell'altro anno ci si possa togliere delle soddisfazioni.